Gloria al Signore, alleluia. Vogliamo intanto pregare e chiedere al Signore le parole che verranno dette non in modo perfetto, ma è la parola di Dio che quando è confermata con un'amen della preghiera, il Signore farà cose nelle nostre vite. Dunque, preghiamo. Signore vogliamo ringraziarti per la Tua parola perché è una lampada nei piedi dei Tuoi figli e grazie perché non possiamo sbagliare con la Tua parola e grazie che ce l'hai data. E ti prego che questa sera, Signore, i cuori siano aperti, Signore. I cuori siano aperti per riceverla e le metti siano rinnovate affinché le nostre azioni seguano lo Spirito Santo. E questo lo chiediamo per la Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Sapete, alcuni mesi dopo l'11 settembre, ci ricordiamo del terribile evento dell'11 settembre, mi trovavo in un aeroporto nei Stati Uniti e stavo facendo lo spiritoso con la persona che era addetta al bagaglio a mano. E scherzai con la persona e io ho detto, guarda, ti assicuro che nel bagaglio a mano non c'è una bomba. La Signora era molto gentile e molto diplomatica e mi disse, guarda, non devi mai usare quella parola nell'aeroporto perché rischi di essere arrestato. E perché l'attenzione era così alta in quel periodo negli aeroporti, luoghi affollati, la gente aveva paura di questa bomba, di questi atti per rischi. E ci sono delle parole chiavi, ci sono delle parole che quando vengono dette possono scatenare delle reazioni, delle reazioni non positive. E uno dei nomi, uno delle parole più problematiche per il mondo è il nome di Gesù. Il nome di Gesù crea problemi nel mondo. Nel libro degli Atti, se vi ricordate, dopo la discesa dello Spirito Santo, Pietro e Giovanni andarono nel tempio. E al tempio c'era una persona, un uomo, che dalla nascita era dopo. E lui vide Giovanni e vede Pietro e aspettandosi di prericevere qualche cosa da lui, Pietro lo guardò e gli disse, Argento, ne ho, non ne ho, ma quello che ho io te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E lui lo prese fermano e questo gioco cominciò a camminare. Le persone si svilupparono dallo stupore. E Pietro annunciò all'Evangelio che i principi della vita che avevano ucciso era colui che era stato promesso. e la fede che si ha nel suo nome abbiamo il perdono dei peccati. E questo non andò bene con i capi, non andò bene con i religiosi, con le autorità. Infatti, si presentarono e dissero, ma con quale potere o in quale nome, in quale nome tu puoi aver fatto questo o hai fatto questo? E loro rispossero, rispossero, nel nome di Gesù. Lui era la pietra, questa era la pietra che aveva stata promessa, la pietra su quale è stata fondata la Chiesa. E in nessun altro vi è la salvezza. Per voi? Grazie. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome, solo il cielo, che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Ora essi, visto la franchezza di Pietro e di Giovanni, avendo capito che erano uomini illetterati, senza istruzioni, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla con lui. E dopo aver condannato loro, o comandato loro di uscire dal sinerio, si consultarono fra loro, dicendo che faremo a questi uomini, perché erano da tutti gli abitanti di Gerusalemme, che un evidente segno è stato fatto da loro. E noi non lo possiamo rinnegare. Ma affinché questo non si divulghi maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severi minacce di non parlare più a nessuno in questo nome. E furono minacciati. Furono minacciati dalle autorità. Non dovevano usare quel nome, perché quel nome di Gesù scatenava caos. Il nome di Gesù procurava tanti nemici per i primi cristiani. Sapete, Gesù ha tanti nomi. Principi della pace. Principi di vita. Consigliere altissima. Leone di Giuda. Ma uno dei nomi di Gesù. Che vediamo nel libro di Isaia e in Matteo. E' Emanuele. Emanuele significa? Dio con noi. Gesù è Dio con noi. Il salvo che ha letto il fratello Luca. Inizia e finisce con una loda di quanto è magnifico il nome di Dio. O Signore, o Dio Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Inizia con questo versetto e finisce con questo versetto. E in mezzo, in mezzo a questo salvo, parla e dice, cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prende in tutta la terra. Che è l'uomo? Tu sei magnifico, ma cos'è l'uomo che tu ti ricordi di Dio? Beh, l'uomo è speciale per Dio. Perché è stato creato Dio secondo voi? Perché è stato creato Dio? Spesso si risponde per adorare Dio. Per dare l'ordine a Dio. Dio non aveva bisogno dell'ordine a Dio. Dio vuole che noi lo ricordiamo. È naturale che noi lo ricordiamo. Ma Dio ha gli angeli, un cielo. Ha una schiera di angeli del cielo, di creatori del cielo, che lo adorano costantemente. Dio ha creato l'uomo, come dice in Genza, per avere dominio sulla terra. Dio disse, facciamo l'uomo a nostri magni, conforme alla nostra somiglianza, e ha un dominio su tutta la terra. E cosa era successo? Adà, invece, perse, detti via, il suo titolo legale del suo dominio, a Sala. E' come quando Genova cedette la Corsica alla Francia, c'è un trattato, e la Corsica non era più di Genova, non era più dell'Italia, appartiene legalmente alla Francia. E in questo Salmo leggiamo che dai lattanti, dai lattanti, da persone umili, da persone deboli, da persone fragili, da persone distrezzate, Dio userà questi uomini, che lo onorano, che lo cercano, per svergoniare il Vendicatore, per essere dei strumenti per distruggire i suoi nemici. Lattanti, persone semplici, bambini, infatti Gesù disse, Io vi rendo l'odeo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelati ai bambini. Dunque, per capire il nostro ruolo, il nostro dominio che abbiamo, chi siamo in Cristo, dobbiamo avere una semplicità che è quella bambina. Quella bambina o quei bambini che stanno riponendo totalmente nella madre, nel padre, per ogni cosa, piena fiducia in Dio, in Cristo, che Lui ci sostiene, Lui ci guida, Lui ci darà la forza per andare avanti, ma Lui ci userà come strumenti del suo nome, per riprendere il dominio, per annunciare il dominio che è stato riscattato, redetto, avvinto da Fiavolo e da Gesù Cristo. E ci sono, ci sono dei privilegi, essere un laddante, di essere un figlio di Dio, e uno dei quali è che noi, come figli di Dio, abbiamo il privilegio di chiedere al padre cose nel nome di Gesù Cristo, quel nome che è odiato dal mondo, invece per noi è un codice PIN, se vogliamo usare, per entrare nel magazzino celeste delle benedizioni di Dio che già sono per noi. Gesù disse, in verità, in verità, tutto ciò che domanderete al padre nel mio nome, Egli te lo darà, in quel giorno, in quel giorno che lui darà, qual è il giorno che lui va avanti in Giovanni? È il giorno del nuovo pato, è il giorno del nuovo pato, ognuno di noi, se stiamo in Cristo, abbiamo il diritto a chiedere cose al padre, cose ovviamente lecite, cose legittime, cose secondo la parola di Dio. Dio non è un genio blu, un laddino che vuole soddisfare tutti i nostri bisogni, tutte le nostre griglie della testa. No, cose lecite, avere casa è una cosa lecita, avere un matrimonio sano è una cosa lecita, avere un lavoro è una cosa lecita, avere sapienza è una cosa lecita, avere salute è una cosa lecita, avere provvidenza è una cosa lecita, conoscere la parola di Dio è una cosa lecita, avere forza per portare il nome di Gesù Cristo in questo modo è una cosa recita e cosa dice Gesù? nel nome mio vi sarà dato è come se Gesù Cristo ci dà un carnet di assegni oggi forse si usano meno di assegni ma un carnet di assegni in bianco come già c'è la sua firma e questi assegni sono per te per essere usati tu rientri e li porti al Padre e dal magazzino per fare vi sarà dato ciò che è buono per noi dunque questo è uno dei nostri diritti uno dei nostri privilegi dei latanti gloria a Dio alleluia che abbiamo questo PIN codice PIN di DIN se lo chiamiamo e il bello è che quando noi chiediamo al Padre nel nome di Gesù notiamo che è nel nome di Gesù che ci viene dato non nel tuo nome perché se tu lo fai nel tuo nome o chiedi nel nome di Maria quella segna va a vuoto perché Dio non riconosce quella firma su quella segna dunque gloria a Dio e grazie a Dio che abbiamo questo privilegio di avere tutto ciò che è buono per noi e la gloria di Dio a disposizione nel nome di Gesù Cristo che il mondo non ha quando chiediamo al Padre le cose nel nome di Gesù abbiamo un'altra cosa che ci dà certezza che ci dà fiducia e lo sapete cos'è? che Gesù viene sempre esaudito dal Padre davanti per fuori non so se vi ricordate quando Gesù fece risorgere Lazaro no? Gesù pregò e e in Giovanni 11 41 lui disse tolsero la chieda quando Gesù disse Lazaro vieni fuori esci e cammina tolsero la chieda dal luogo dove giaceva il moto Gesù al luogo alzato gli occhi disse Padre ti ringrazio che mi hai esaudito io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre Gesù ci esaudisce Dio esaudisce sempre le preghiere di Gesù quando prega Gesù e sei in Gesù non sei tu che preghi il Padre è Gesù che sta pregando il Padre e ci dà certezza questa sicurezza quando chiediamo che Gesù verrà esaudito e questo vi dà forza questo vi dà certezza quando chiediamo cosa esce per il suo regno per la nostra vita Gesù viene esaudito perché perché lui è un figlio di Dio lui ha obbedito pienamente alla legge di Dio lui ha passato ogni esame è stato ubbidiente fino alla morte in Apocodesi 5 dice degno è l'agnello che è stato dimolato di ricevere la potenza la ricchezza la sapienza la forza l'onore la valoria e la note ecco chi è colui che intercede per noi Gesù dice a Giovanni 14 chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio questo sta parlando di te questo non sta dicendo chi crede in me fino a 212 dopo Cristo chi crede in me farà anche egli delle opere che io faccio anzi ne farà più grandi di questo perché io vado al padre e qualunque cosa che vedete nel mio nome la farò nel mio nome la farò nel suo nome lui lo fa diciamo che non è il padre che lo fa è Gesù che lo fa è come se tu avessi la procura del nome di Gesù sapete cos'è una procura? la procura è che se tu devi vendere una casa e non stai in quella nazione tu puoi avere un amico un fratello che ha la tua firma e con la sua firma vale quanto vale la tua lui può comprare e vendere con la tua firma Gesù dà ai discepoli a Pietro Paolo tutti la procura il suo nome gloria a Dio e la Chiesa ha bisogno di riscoprire queste cose perché noi usiamo il nome di Gesù alla fine di una preghiera come un post scritto non di essere nel nome di Gesù grazie quasi come una formula magica ma no c'è potenza nel nome di Gesù Cristo c'è vita nel nome di Gesù Cristo c'è guarigione nel nome di Gesù Cristo c'è liberazione nel nome di Gesù Cristo perché quando tu parli nel nome di Gesù Cristo è come se Gesù Cristo lo stava facendo tu non sei Gesù Cristo ma tu sei il rappresentante di questo non so che noi sappiamo lo avete sentito e scusate ma la ripetizione fa bene e finché non facciamo questo non possiamo andare avanti dunque lo scopo è di far capire la nostra identità nel nome di Gesù Cristo non facciamoci scoraggiare perché siamo pochi o siamo illetterati noi dobbiamo avere quella fede che questi latanti quella semplicità non stupidità ma quella fede in quello che Gesù dice Gesù lo dice io lo credo e lo metto in atto e vedrai di benedizione vedrai una cosa nel nome di Gesù e quando Gesù dice qualunque cosa chiedere il termine chiedere è chiedere no? supplicare e pregare ma no del nome è un uso del questo chiedere è come di esigere avere una audacità è coraggioso come Pietro Pietro e Giovanni quando andavano nel tempio e c'era il mendicante che stava lì non è che dicono oh signore il tuo gloria se è nella tua volontà faccio una preghiera così a voce così sacrosanta così vedrai quanto sono umile e se sono stato buono abbastanza tu riascolterai la preghiera non ha detto questo non ha detto signore qual è chi devo toccare chi è che devo fare devo essere guidato nello spirito non hanno bisogno di quello e non hai bisogno di quello perché tu già hai lo spirito dentro di te soltanto dobbiamo capire che abbiamo il nome di Gesù Cristo di portare al mondo in ogni circostanza che il Signore ci dà in qualunque cosa che facciate date gloria fatelo nel nome del Signore no? o quando vai al lavoro no? io inizio il lavoro per esempio Signore ti prego che il tuo sangue che la tua potenza copre ci protegge e quelle giornate sono benedette perché il Signore onora colore che onorano il suo nome è il suo nome che ci manda avanti è il suo nome che camereca sai queste cose il fatto che lui ci ascolta che abbiamo la procura che ci ha dato l'assegno in bianco che è lui che opera quando noi operiamo sai quando noi ci incontriamo diciamo spesso quando due o tre sono radunati nel mio nome è perché il suo nome legalmente ha un'azione ha un effetto è come se lui fosse lì c'è una profura Gesù è lì e quando abbiamo questa certezza nella potenza del nome di Gesù non c'è niente che ci deve mettere tra loro ora userò una testimonianza semplice semplice nel senso io l'altro giorno stavo sono andato a prendere dal timografo dei libri che stavo facendo stampare e sono andato dove mi servono per anni è un luogo anche Dudley porta sempre un calendario quei calendari evangelici ma sono 15 anni che vado allora è vero che c'è sempre il calendario evangelico c'è questa copia che lavora lì dentro e poi hanno tutte queste altre feticci religiosi strani secchi cose immagine io dico questa gente è grandemente religiosa però ho detto sai io non sono veramente nessuno che giudicare perché se questo stanno tenendo sulla parola forse Dio in qualche modo possono essere appartenere al Signore dunque anzi ho commentato e ho detto bello che questo calendario sì sì no io pensavo che amassero veramente questa parola e l'altro giorno c'era un versetto attaccato sul muro e dice sai se uno non è nato di nuovo non metterà il regno di Dio e ho detto ah che bel versetto eh questo tu l'hai capito io ho detto no io ho detto scusa ma tu credi in Dio ma forse ecco una persona con religione tutto intorno la parola di Dio io avevo preso riscontato che questa persona avesse timore a apprezzarsi e dice no lo vengo lì perché tante persone vengono vengono attirate dalla parola di Dio poi la moglie mi ha incominciato a guardare un po' strano no e ho detto ho dovuto andare via perché c'era gente e grazie a Dio perché niente succede per caso dovevo ritornare e tornando stavo pregando di uno spirito stavo pregando di uno spirito camminavo e pregavo e lui si chiama Nazareth e pregheremo con Nazareth e a regolare era tutto solo io ho detto allora Nazareth adesso parliamo tu non credi in Dio eh io ho detto guarda noi dobbiamo fare una cosa tu devi essere libero da quello spirito di rabbia che hai e tu devi essere libero da quello spirito di connessione che hai e tu devi essere libero adesso nel nome di Chiusura da quello spirito di religione che hai lui ho detto come sai queste cose come sai queste cose e ho detto tu non ti preoccupare con lo somma tu ascolta come lo spirito cosa ti dice e lì versi Paolo al capitolo dice sempre di Africa che è roba dite no voi attenesi siete così religiosi avete l'altaria tutti i dei e avete Dio sconosciuto beh Nazareth drain suona il telefono io ho detto vedi Nazareth quindi dice che è il diavolo ho detto sì il diavolo non vuole che ti fanno infatti attaccavo subito non vuole perché non 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 c'è nessuno io ho detto io adesso devo pregare per te devo pregare per te nel nome di Gesù Cristo perché tu devi essere libero da queste cose perché tu hai rabbia vedi che è una bomba a religione alla parola di Dio ma a volte c'è bisogno che noi andiamo con potenza e dire nel nome di Gesù Cristo sii libero lasci stare questo uomo sii libero questo spirito che lo rende lo stile la rabbia con me e gli prendi l'Evangelo non dobbiamo aver timore perché quando siamo lì è Gesù Cristo che è lì quando noi parliamo è come se Gesù Cristo parlasse quando noi tocchiamo un malato è come Gesù Cristo lo facasse quando noi gridiamo a spiriti è come se Gesù Cristo lo facesse e non tutti saltano balzano fanno salti no c'è tempo per ogni cosa ma come da tanti stiamo ricordando il regno di Dio la dignità dell'uomo nel mondo per ristabilire le famiglie ristabilire il lavoro l'etica queste cose e la Chiesa deve scoprire questo la Chiesa istituzionale denominazionale sono quelli che a volte ti perseguono più di tutto sono quelli che sono spiritualmente in generale non tutti spiritualmente morti e ti dicono tu non devi fare questa cosa erano cose di altri tempi sono cose che non appartengono oggi hanno fatto il gioco del diavolo cari fratelli hanno fatto il gioco del diavolo e ci sarà una riscoperta di questa potenza prima di Gesù tornerà e speriamo e prego che ognuno di noi ne faccia parte dove il Signore ci chiama c'è potenza nel nome di Gesù c'è vita nel nome di Gesù quando noi siamo lì nel nome di Gesù c'è vita vita che fuoriesce non viene da te viene da Dio che vive in te e dobbiamo essere delle benedizioni per il mondo che ci siamo Emanuele Dio con noi abbiamo la sua procura del segno firmato hai la certezza che Gesù viene sempre ascoltato e questo ci dà audacità ci dà forza ci dà una potenza straordinaria che il mondo vede e c'è c'è una vittoria è una vittoria che Gesù ha compito noi dobbiamo continuare fratelli ad operarci e sapete il mondo vuole essere politicamente corretto e con questa scusa di essere politicamente corretti è una scusa anche per silenziare quel nome di Gesù Cristo il mondo vuole dettare quello che tu dici vuole dettare quando tu ti incontri anche il mondo religioso perché chi ha detto di aver incontrato una volta la domenica e basta e chi ti dice di aver incontrato per un oro e con un oro questo è il mondo e io ringrazio Dio per questa chiesa Marco dice la chiesa quando stiamo insieme questa chiesa non è questa chiesa è un organismo vivente che può dire che noi siamo qui per dare gloria a Dio ma il mondo non deve dettare questo con la scusa di modo di essere politicamente corretto perché quando noi camminiamo nel nome di Gesù Cristo è inevitabile che creeremo caos ci sarà caos come i primi dicevoli succederà con noi quando noi pronunciamo il nome di Gesù Cristo quello che noi sciogliamo in terra e vediamo in terra il cielo lo riconosce quando noi dichiariamo e annunciamo il nome di Gesù Cristo angeli ricevano ordini non da te e i demoni tremano la tua presenza fa tremare i demoni quando proclamiamo il nome di Gesù Cristo il cielo il cielo è in accordo con te e gli inferi tremano noi siamo schiavi di Dio servi dell'uomo e siamo dominatori di Dè aspettatevi caos e più e più andremo avanti cari fratelli più lo vedremo perché ci sono cari fratelli nel mondo che sono chiamati a fare delle cose particolari in ambienti diciamo totalmente ostili allo stile di vita della volontà di Dio stavo vedendo un altro video di questi predicatori che vanno in Gerusalemme e credono l'Evangelo e si radunano persone contro di loro che li sputano addosso noi stiamo in una piccola isola cari fratelli e quello che è successo con me e Nazareno è una cosa buona ma non è così per tutti i nostri fratelli perché ci sono milioni di fratelli che hanno uomini di Cristo vennero solo minacciati con la morte in Cina in Cina Certo Corea del Nord tutti gli evangelici in Cina che non fanno parte della chiesa statale nazionale certo dunque vediamolo come noi abbiamo un privilegio noi abbiamo un privilegio di fare questo abbiamo un privilegio di crescere la conoscenza però abbiamo una responsabilità adesso perché il Signore ci sta dando questo messaggio non per due anni da adesso cinque anni è perché ci serve adesso ok? tu mangi quando? non per la salute fra due anni è perché hai bisogno di salute oggi dunque aspettate il caos perché gli uomini preferiscono le tenebre che ha la luce rifiudono la soluzione per il peccato di Dio e si creano un Dio a loro immagini e somiglianze loro vogliono confidare in religioni in false filosofie che non possono salvare confidano nella propria giustizia creano un Dio fatto nella propria immagine e somiglianze non vogliono sottomettersi a Dio vogliono un Dio come loro credono che Dio deve essere e non è non è il cuore di uno a tanti non è quel cuore che dice signore sono tuo usami secondo la tua verità Gesù disse in un Giovanni 20 ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome se tu non sei nato di nuovo non potrai avere vita se non è per il nome e nel nome di Gesù Cristo ripetiamo non tutti che vengono in chiesa sono salvati è stato necessario che Gesù Cristo Dio figlio uomo e Dio venisse giù a morire su quella croce perché un uomo non è morto un uomo qualunque è morto Dio uomo e solo quella soluzione poteva riscattarci dal dialogo noi non potevamo ubbidire la legge morale Gesù Cristo lo ha fatto e la completa fiducia della sua opera continua facendo quello che Pietro dice tentiti credi nel Signore Gesù Cristo sii battizzato e ricevi il dono dello Spirito Santo se non hai fatto quello sei nelle tenebre sarai faragatti di quel gruppo che ci crea caos la realtà è questo in famiglia in società in lavoro nel mondo gli uomini preferiscono le opere delle tenebre invece più che le opere della della luce creiamo caos perché ti scontrerai con la scienza con l'orgoglio della sapienza umana che molti accettano come assoluta verità l'evoluzione ti scontrerai creerai caos ma beati voi perché noi sappiamo che il mondo è stato creato per la parola e attraverso la parola di Dio in una questo è il nostro Dio ti scontrerai tu creerai caos dove non arriva la medicina con tutto rispetto per la medicina perché quando noi imponiamo le mani sui malati e dichiariamo guariti nel nome di Gesù Cristo o quando tu vieni e gli anziani ti ungono con l'olio per essere guariti va contro la medicina troverai caos creerai caos avrai caos in coloro con coloro che hanno problemi di pace tentale perché la vera soluzione per i loro problemi emotivi psichiatrici dipendenze come diceva prima Genn è il nome di Gesù Cristo perché quello che il nome di Gesù Cristo può fare in un attimo un psicologo psichiatra un anziolitico un antidepressivo un sonnifero non può fare in una vita questo è il nostro Dio la Chiesa deve riscoprire questa potenza nel nome di Gesù Cristo e lo farà prima del suo ritorno ma ci sarà una grande caos ricordiamoci però ciò che dice Dio del nome di Gesù del suo nome in Filippesi due nomi dice perciò Dio quello che abbiamo cantato prima Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni nome alleluia affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre tu non credi in Dio non puoi seguire Gesù come Dio vuole tu in ginocchio ma che tu ginocchio davanti a Gesù Cristo grazie a Dio che apparteniamo e siamo avvolti nel suo nome il magnifico nome di Gesù di Dio Gesù e Emmanuel sopra sotto destra sinistra e andiamo avanti fiduciosi nella potenza di quel nome alleluia alleluia preghiamo insieme ok Padre Celeste vogliamo ringraziarti di nuovo per questo momento di poter proclamare il tuo nome di crescere nella conoscenza del tuo nome e ti prego che possiamo andare avanti Signore con quello stesso spirito perché abbiamo lo stesso spirito di Pietro di Giovanni di Apostoli abbiamo lo stesso spirito di Paolo che per il tuo nome Signore venivano persecutati e rinunciati ma nel tuo nome Signore c'era potenza e pur vedendo non credevo ma grazie Signore perché noi come popolo vogliamo colonare il tuo nome e vogliamo vivere il tuo nome vogliamo camminare nel tuo nome e vogliamo usare il tuo nome sapendo che quando noi parliamo sei tu e grazie Signore perché questo è il privilegio di essere inolattante che nel nome di Gesù con nome a lui Amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti